Saluti e buonasera alla padrona di casa, che apre le porte al latte, che apre le porte al latte. Presidente, buonasera, saluti padrona, ci avete invitato, che dobbiamo fare? Qual è l'artista di questa sera? Ah, sì, è la spela prea. Dove sta? Stiamo ancora montando... Stiamo ancora montando... Stiamo ancora montando, non sono piante. Ecco l'artista, famosa appena reducita a Gallipoli. No, a Gallipoli quest'anno non c'è andato. Io non c'è andato. Questo è il tuo prodotto. Questo è il tuo prodotto. Questo è il tuo prodotto. La tua sta in preparazione. Ci fai vedere qualche in una inatteprima? Sì. Giusto uno o due cose, ce le fate vedere, così studiamo e ce ne andiamo. Ci togliamo dai piedi. Quanto della situazione dovete vedere, man mano... Quanto del posto si presta? 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 Andiamo con dentro. Presidente, bianco e nero. Sì. Bianco e nero e colore. Tu ci hai abituato con i protagonisti che ci hai portato fino ad oggi con queste cose colorate. Ognuno ha scelto un proprio modo di essere, quindi chi ha usato il bianco e nero, chi ha usato il colore, chi ha usato entrambi. Ognuno ha cercato di dare quello che sentiva. Il Presidente è anche un maestro d'arte, il cui cognome è a Stavita. Lo abbiamo e lo contattiamo sempre di sovente. Raffaele è uno degli attività. Raffaele ha detto a denti stretti, a telecamera. Raffaele è uno degli allievi, sta in puga. Siamo tutti degli amanti, tutti assolutamente direttanti, a parte qualcuno che lo fa per professione. Raffaele è speciale e te lo dico io. Non io. Raffaele è speciale e te lo dico io. Raffaele non metta mai a fotografare la Via Latte. Però Raffaele... No, no, è venuto, è venuto. Ah, è giusto per vedere. No, comunque ci tengo a rimarcare. A Raffaele gli piacciono le forme geometriche, gli piacciono le cose solide, gli piacciono i materiali. L'organizzazione, quindi, dell'idea di Mariana Gizzani. L'abbiamo incontrato nella chiesa di... Mariana, ci dedichi due parole, un sorriso, un attimo che stiamo a filo a continuo. Eh va, è una sua idea, quindi... La sede rimane qua, ci sporcieremo anche nella chiesetta come negli scorsi anni... A Natale pensiamo di fare qualcosa, diciamo adesso qua completiamo l'anno con questa rassegna. e poi faremo i nostri auguri. Grazie. A stasera, in bocca al lupo. Ciao. Grazie.